Il Secretario Generale di Cisbundi, di Pino, stiamo cercando di valorizzare di più per dare più valenza, più presenza, più consistenza anche numerica all'interno delle Camere del Lavoro e per avere un rapporto più diretto perché molto spesso alcuni problemi si possono risolvere bene nella Camera del Lavoro anziché andare direttamente a bar. Quindi anche lì stiamo vedendo di prevedere la presenza di qualche compagno esperto del settore che tratta uno di post che magari anche il suo appuntamento possa fare anche soltanto dal ricettore di quelle che sono le problematiche e magari puoi vedere di capire. Fermo restante che le segreterie delle categorie sono sempre disponibili, voi sapete, agli incontri, però vanno valorizzate le Camere del Lavoro che sono state sempre un caposaldo della democrazia sul territorio.